Marco Delemona che è premiato alla 26esima edizione della festa dello sport a Pescara, intanto le tue prime impressioni? Sono molto contento, ringrazio tutti quanti per la fiducia e spero che sia uno dei tanti premi che riceverò. Che 2022 è stato per te? Un anno incredibile, pieno di cose inaspettate, spero che vada come sta andando quest'anno per sempre perché sono emozioni che non si provano mai. Cartellino della Sampdoria, però giochi a Pescara, ma il tuo sogno qual è? Esordire in Serie A, vabbè. Hai 17 anni, sei di cappelle sul tavo, ma sei sempre stato tifoso biancazzurro? Sempre, sempre, quando sono piccolo. Qualcuno dice che hai poco spazio nel Pescara attuale, tu come rispondi? Il mister fa le decisioni, quando mi mette in campo io do sempre il massimo, quando mi mette è una motivazione in più per fare sempre meglio. Quali sono stati i tuoi idoli, i tuoi punti di riferimento nella tua formazione calcistica? Sin da quando sono piccolo, Neymar. Cosa sogni di raggiungere con il Pescara? Quest'anno di arrivare in Serie B. Tre sconfitte che cosa rappresentano dopo un lungo periodo positivo? Beh, non lo so, vuol dire che ora dobbiamo metterci ancora più sotto e vincere tutte le partite. Questo premio a chi lo dedichi? Il premio ottenuto alla festa dello sport? In primis a mio nonno e poi tutta la mia famiglia. In bocca al lupo. Crevi, grazie.